ciao ciao a tutti e bentornati sul mio sbrillucicoso canale oggi finalmente è arrivato il momento di un video creazioni è un po che non ne faccio uno quindi non sempre mi è possibile farli però adesso ho un po di cosine qua che ho raggruppato delle creazioni che ho fatto nell'ultimo periodo non tutte perché molte le ho già consegnate però insomma ci sono alcune cose che devo consegnare proprio oggi e alcune cose che ho preparato per il campionario che sono appunto felice di mostrarvi allora da cosa cominciamo cominciamo da da cosa cominciamo tante meraviglie qui davanti dopo capirete anzi e cominciamo da questo che proprio una delle ultime cose che ho fatto da inserire appunto nel campionario questi sono gli orecchini diana che ormai ho riprodotto veramente in tantissime versioni e questo a questo in particolare l'avevo realizzato uguale per san valentino e visto che era piaciuto tantissimo ho ripreso il materiale ce l'avevo per i farli uguali ma mi mancavano i perni che li ho ripresi per poter realizzare appunto un'altra versione da poter mettere in campionario veramente molto belli questi orecchini veramente in qualsiasi colore li facciamo rendono sempre al massimo veramente molto molto belli tra l'altro in questo caso ho utilizzato queste perle che non sono svaroschi io solitamente ideana li faccio con componenti tutti svaroschi dal rivoli appunto alle perle ma queste perle le trovo veramente bellissime di grandissima qualità e quindi mi piaceva il colore il rivoli ho messo un rivoli svaroschi della nuova collezione come vedete quelli del light e però appunto sono piaciuti tantissimo anche con queste perle effettivamente la resa è bellissima e quindi li ho fatti anche da mettere in campionario orecchini diana come di consueto vi lascerò qui sotto nell'info box il link di riferimento sia agli schemi come questo caso uno schema uno schema di francesca che trovate su etsy che ai tutorial su youtube nel caso appunto siano tutorial presenti su come video qua su youtube allora poi ho realizzato ecco ce l'ho qua davanti ve li faccio vedere anche se li ho avevo realizzato un video appositamente per per loro questi sono i ciondoli il ciondolo christmas light che ho realizzato il kit in collaborazione con perline gioielli questa è una delle due nuove varianti colore trovate appunto il kit per realizzarlo in questi colori sul sito perline gioielli questa è la versione turquoise veramente molto bello ha avuto un grande successo questo schema mi fa tanto piacere poi ho realizzato anche una versione totalmente diversa diciamo questa l'abbiamo denominata la denominata graziana wasabi veramente molto bello anche questo colore anche di questo trovate il kit con materiale schema per realizzarlo sul sito perline gioielli vi lascerò qui sotto e anche qua il link di riferimento per acquistare il kit poi ho realizzato anche una versione di mia libera ispirazione quindi della quale non c'è un kit del sempre dicendo lo christmas light guardate che bella guardate che colori questo rivoli è stupendo poi ho utilizzato le kite in questo caso quelle serigrafate sono stupende se volete realizzare anche voi il ciondolo a libera ispirazione vi lascerò comunque il questo schema è presente anche nel mio negozio essi vi lascerò anche il link allo schema diretto allo schema singolo bello 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 adoro questi colori mettiamo qua poi sempre come ciondoli io ultimamente mi sono ridata ai ciondoli perché vedo che piacciono e quindi li propongo sia come schema che come come articolo dalle mie clienti guardate che bello questo se mi seguite sui social avete già visto lui è il ciondolo bohemian rhapsody trovate lo schema appunto sul mio negozio etsy questa è stata la prima versione che ho realizzato con questi bellissimi colori anche qua ho utilizzato un rivoli della serie del light della swarovski ho poi messo questa mappina molto graziosa qua come come appunto abbellimento mi piacciono tantissimo le nappine ultimamente mi sono convertita dalle gocce alle nappine le sto mettendo praticamente ovunque sia ciondoli che orecchini mi piace veramente utilizzarle questo appunto dicevo è la prima versione dalla quale ho creato il progetto poi avevo ancora completare con la catenina è la versione che ho realizzato per lo schema guardate questa anche che meravigliosi colori che ha e qua devo appunto ancora confezionarla però veramente bellissimo questo ciondolo la forma quadrata ultimamente mi sta piacendo tra l'altro tantissimo la dimensione è importante ed è per quello che appunto si presta per un ciondolo con una catenina lunga da portare sotto seno almeno io in quella che avete visto prima ho fatto così ed è veramente molto bello questo ciondolo bohemia rhapsody vi lascerò il link qui sotto nell'info box come tutti gli altri poi cosa vi mostro ancora allora parlando di forme quadrate vi mostro questi orecchini che realizzato seguendo il tutorial della mia amica carmen russo che ha realizzato il tutorial qui su youtube gli orecchini oriente in questi meravigliosi colori anche qui come dicevo le nappine per me ultimamente sono una cosa immancabile e spesso mi sbizzarrisco di utilizzarle belli belli in questi colori poi questo progetto è veramente stupendo poi ho realizzato su richiesta questi orecchini che una cliente aveva visto la foto sul mio profilo e quindi me li ha richiesti 20 ci sono gli orecchini dal mio tutorial holiday e in questi colori veramente stupendi sono piaciuti veramente tantissimo poi ecco un'altra cosa che ho replicato in questi in questi ultimi giorni sono stati questi scusate questi sono semplici orecchini che avevo realizzato tempo fa levo postate nei vari gruppi anche sul mio profilo sono piaciuti tantissimo infatti sono andati via subito poi ho ripreso queste gocce che le ho trovate da perine fimo in co le ho prese tra l'altro in tutti i colori le ho rifatte immediatamente in questo colore perché me li avevano richiesti identici a quelli che avevano appunto visto e adesso mi sbizzarrirò a farlo anche con le altre colorazioni che sono tra l'altro molto adatte alla nuova stagione qua veramente una goccia talmente una goccia un componente comunque talmente importante poi tra l'altro è bellissimo morbido come ho sempre fatto notare basta una semplice un semplice dettaglio quindi in questo caso ho proprio messo la semplice incassonatura di un rivoli di un rivoli da 12 mm e poi dopo l'ho lanciata cucendola alla goccia inserendo qua un bicono da 3 mm ed è veramente una cosa insolita secondo me è veramente carina poi soprattutto per l'estate li vedo veramente adattissimi e questi appunto questi orecchini stupendi poi allora ho realizzato questi meravigliosi orecchini davvero graziosi dal primo tutorial della mia amica analisa bolognesi veramente molto molto graziosi c'è da divertirsi realizzare in tantissimi colori leggeri piccolini adatti veramente a tutti e in ogni occasione anche poi a seconda dei colori che facciamo possono risultare casual eleganti veramente bellissimi vi consiglio di iscrivervi al canale di analisa perché ha preso il via e ha già fatto anche diversi altri progettini che non vedo l'ora di trovare il tempo di realizzare orecchini errore questi comunque scusate ho un po di tosse oggi scusatemi e dicevo vi lascerò appunto anche degli orecchini errore il errore che poi insomma se tutti gli errori fossero così vero vi lascerò il link qui sotto nell'info box e mi raccomando iscrivetevi al canale di analisa che è un neonato canale ma promette veramente molto bene rieccomi scusate sono andata a bere un bicchier d'acqua perché avevo non so sta cosa fastidiosa che mi impediva di parlare limpidamente rieccomi comunque allora procediamo con la carrellata delle creazioni dell'ultimo periodo con questi che sono i miei personali però ci tengo a farveli vedere eccoli qua e sono gli orecchini angel che ho realizzato veramente in tantissimi colori ultimamente con queste utilizzando le storm duo della finitura etched che adoro e questi sono i miei personali appunto gli adoro veramente la follia di questi trovate lo schema nel negozio etsy allora orecchini angel questi sono i miei come dicevo poi li ho realizzati anche in una variante da inserire a campionario che sono questi praticamente in questo caso ho giocato invece con i colori ho usato l'oro con le storm duo giocato un po con i colori a riprendere un po le sfumature del rivoli eccoli qua prendiamoli con domani che meglio orecchini angel guardate quanto sono belli come state notando sto utilizzando praticamente tutti quanti i rivoli nuovi quelli della delight swarovski anche nella nel componente che vi ho mostrato prima questo non so se avete notato che il rivoli è da 12 ma è sempre un delight allora poi procediamo la carrellata con il tutorial che ho fatto su youtube qualche settimana fa in occasione di san valentino che sono gli orecchini appunto praticamente l'incassonatura di un rivoli da 14 con il decoro a cuore quindi ho fatto il tutorial della tecnica per fare la decorazione a cuore nella trovo veramente deliziosa le ho realizzate in tanti tantissimi colori in occasione di san valentino proprio per quello che mi è venuta l'idea di proporvi video tecnica per realizzare anche voi poi ho realizzato questi graziosissimi braccialetti semplici semplici li avevo fatti già anche l'anno scorso sono piaciuti tantissimo quindi li ho realizzati per degli clienti che me l'avevano chiesti che li avevano visti quindi ho realizzato questo bellissimo colore proprio semplici semplici incroci con cipollotti 6x4 e rocaille proprio una roba semplicissima ma veramente d'effetto stanno molto bene indossati adesso qua come vi dicevo ci sono tantissime cose cerchiamo di fare spazio e li ho realizzati anche in questo colore e anche in questo infatti questi sono tre dei bracciali che devo andare a consegnare fra poco in quest'altro colore bellissimo eccoci qua poi veniamo all'ultima creazione che tra l'altro su youtube non ho ancora presentato e quindi ne approfitto adesso eccoli qua così arrivati in un lampo lampante qui davanti a voi sono gli orecchini Moby Dick che li ho realizzati in collaborazione con il sito Perlissima al momento di questi trovate i kit disponibili appunto da Perlissima e vi lascerò anche qui il link di riferimento c'è questa variante e altre varianti colori disponibili a richiesta io adoro questi orecchini veramente la forma mi piace un sacco ho utilizzato per la prima volta le Moby Duo che sono proprio le perline che trovate qua al centro e anche nelle punte sono perline nuovissime uscite proprio di recente io ho avuto il piacere e l'onore di averle in mano proprio appena uscite cioè Monica la titolare di Perlissima è stata proprio la prima in Italia a proporle e io le ho avute il martedì e il mercoledì erano già da me e ho cominciato a lavorarci subito insomma appena le ho avute fra le mani belli belli cosa ne pensate? eccomi scusate sono andata a prendere un paio di cose che avevo sul mio tavolo da lavoro che vi voglio mostrare sempre inerente a questi orecchini e sono praticamente una cosa è questa che è il prototipo praticamente tra i tanti in fila e sfila che ho fatto questo era praticamente quello che il risultato che mi piaceva maggiormente quindi l'ho comunque tenuto perché praticamente l'unica cosa che cambia è che all'interno della decorazione dell'incastonatura diciamo l'ho modificata in quanto qua non veniva a speculare col fatto rispetto diciamo alle mobiduo che ci sono di base quindi la decorazione non mi piaceva come veniva l'ho preferita molto di più appunto in questa maniera come vedete così questo mi dispiace siccome è comunque carino mi dispiace disfarlo e sicuramente lo utilizzerò come ciondolo eccoci qua mettiamo tutti qua anche questi li devo consegnare quindi ci ho tenuto comunque a farveli vedere anche qui su youtube poi qua è un'altra variante infatti l'ho preso dal tavolo perché ho fatto il primo il primo devo fare ancora il secondo ma ci tengo a farvelo vedere perché guardate quanto è bello anche questo sempre l'orecchino mobidiche in un'altra colorazione guardate quanto è bello io lo adoro veramente ci tenevo a farvelo vedere anche se ancora non c'è la coppia comunque insomma dopo farò l'altro che chiaramente risulterà identico eccoli qua poi ecco cosa vi voglio far vedere anche mi sono divertita tantissimo a realizzare tanti di questi veramente da mettere in campionario perché gli orecchini a lobo mi vanno veramente via tantissimo piacciono tanto semplici piccolini quindi anche in vista della primavera così questa è una cosa che sicuramente piacerà tanto questi orecchini a lobo sono semplicemente fatti con materiali semplici cipollotti piccolini poi a seconda del vostro gusto potete fare anche con misure diverse e li ho realizzati dal tutorial di Monica Monica Resmues spero di aver pronunciato bene il tuo cognome Monica veramente complimenti per questo progetto perché appena li ho visti mi sono innamorata veramente ho seguito il tutorial e ne ho fatti veramente tanti guardate in tanti tipi questi diciamo è come li propone lei inizialmente poi dopo appunto ho sostituito le 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 rocaille con sempre tutti i cipollotti guardate quanto diventa bello lo suggerisce poi anche lei non so se dopo ho fatto un post o un video creazione dove li fa vedere appunto che sostituendo i cipollotti dove lei usa invece le rocaille si ottiene comunque un risultato anche più bombato e più luminoso comunque quindi li ho voluti realizzare in tutti e due i modi proprio per vedere la resa poi vi faccio vedere velocemente tutti gli altri colori che ho realizzato dopo li metterò nella bustina come faccio con i baby perché gli orecchini a lobo mi piace proprio presentarli così come adesso ne ho uno qua pronto eccolo qua gli orecchini baby li confeziono sempre in questa maniera cioè quindi sempre sul sul cuoricino con inserito il mio tagliandino e così farò appunto anche con questi appena ho finito il video che li impacchetto questo guardate questi che meraviglia questi questi veramente mi sono divertita un sacco guardate che questi che carini questi qua tutti sbrillucicosi come piace a me e questi altri sono veramente tutti tutti bellissimi complimenti Monica per questa bellissima idea adesso io metto qua tutto qua davanti però insomma le cose le avete viste bene nel dettaglio prima ok poi come ultima cosa vi mostro questo che è il mio progetto che avete visto già nel video dedicato sono i miei orecchini Frida ho fatto appunto qualche giorno fa un video dedicato a loro dove ho fatto vedere le versioni dei kit nel frattempo io ho creato anche quest'altro quest'altra colorazione che comunque l'ho realizzata per la mia libera ispirazione quando l'ho mostrata ad analisa le è piaciuto tantissimo infatti stiamo vedendo di realizzarlo il più simile possibile anche come kit perché sicuramente piacerà tantissimo poi se una volta che mi seguite e seguite la pagina e anche il sito vedrete l'evolversi di questo di questa colorazione bene questi sono tutti tutta la carellata che vi ho proposto oggi che belli vederli qua tutti davanti insieme non stanno dentro l'inquadratura ma li avete visti tutti quanti io vi ringrazio per aver visionato questo video e vi rimando alla prossima ciao ciao ecco il cuoricino salutiamo anche qua così ciao a tutti